In questo nostro appuntamento settimanale parliamo di fondi europei, perché la domanda più frequente che mi sono sentito fare, appena l'interlocutore impara che sono parlamentare europeo, è ci sono delle risorse dei fondi europei, viviamo un momento di difficoltà, di crisi e quindi gli amministratori, le imprese sono alla ricerca di risorse. Certo l'Europa mette a disposizione delle risorse con due sistemi diversi, ci sono dei fondi a gestione indiretta, quindi le risorse, i soldi arrivano nel caso dell'Italia alle regioni, in Emilia Romagna arrivano nei prossimi sette anni 2 miliardi e mezzo di euro, sono tante risorse che vengono trasferite alle regioni che poi ne decidono l'utilizzo attraverso una programmazione che deve essere poi approvata dalla Commissione europea. La programmazione prende il nome di programma operativo regionale. In questo capitolo ci sono i fondi strutturali, i fondi di coesione. che cosa finanziano queste risorse, questi soldi? Soprattutto l'innovazione, la ricerca, l'agenda digitale, c'è un capitolo di sostegno alle piccole e medie imprese e tutto il tema dell'economia verde di ridurre le emissioni di CO2, oltre ai fondi dedicati alla pesca e all'agricoltura. In Italia 42 miliardi complessivi di euro per il periodo 2014-2020, di cui 2 miliardi e mezzo alle Emilia Romagna. C'è da dire che la nostra regione è la prima in Italia per capacità di spesa, cioè ha speso mediamente bene e nei tempi previsti, con le modalità previste, tutte le risorse. Questo non avviene purtroppo in tutte le regioni italiane. Poi c'è un altro capitolo interessante che sono i fondi a gestione diretta, cioè quelli che si possono ottenere direttamente relazionandosi con l'Europa, senza intermediazione. E qui possiamo fare tanti passi in avanti. Molte risorse non vengono utilizzate dall'Italia in generale. Ci sono due modalità, o degli inviti che la Commissione europea fa a presentare delle proposte per questi finanziamenti, l'Unione chiede cioè di presentare dei progetti su un certo argomento e valuta gli eventuali finanziamenti. In questo caso i contributi europei sono concessi a fondo perduto e arrivano spesso a coprire addirittura 60, 70, 100% del progetto. Questi inviti a presentare proposte sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e sul sito internet della Commissione europea. L'altro sistema invece sono le gare pubbliche di appalto. Erogazione del budget avviene attraverso una gara a cui si può partecipare e il bando copre in questo caso il 100% dell'opera commissionata. Anche questo viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea. Cinque sono i programmi principali sui quali l'Europa dà i suoi fondi. COSME che è il programma per le piccole e medie imprese e per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Ci sono 2 miliardi e mezzo di euro nei sette anni di programmazione. Erasmus che è di gran lunga il programma più conosciuto ha l'obiettivo di dare ai giovani europei la possibilità di muoversi, di studiare, di lavorare in altri paesi. È finanziato per 15 miliardi di euro e si rivolge, ripeto, soprattutto ai ragazzi e ai giovani. Altri programmi interessanti, penso al programma LIFE, per esempio, che si occupa soprattutto di ambiente e di cambiamenti climatici, un tema all'ordine del giorno. Horizon 2020, un programma invece legato alla ricerca e all'innovazione. Si rivolge alle imprese, all'università, agli istituti tutti di ricerca. Poi c'è il capitolo Europa Creativa che finanzia invece le attività culturali, artistiche e creative dell'Unione Europea. Ora, queste opportunità io le ho raccolte in questa pubblicazione. Questa pubblicazione si può trovare online nel mio sito, damianosofoli.it, oppure si può richiedere anche nella versione cartacea e nel sito trovate naturalmente i riferimenti.